solido e robusto coltello fodero in ecopelle molto solido e robusto cordino alla sua estremità manicatura full tang la lama praticamente arriva fino in fondo foro passante con cordino notevole lo spessore parecchi millimetri di spessore una bella lama ben affilato molto maneggevole in quanto a questa manicatura particolare ricoperta di una fitta cordura che la rende antiscivolo e molto ben impugnabile